ciao sono franco il tuo video operatore come ti chiami da dove vieni da parma quindi sei vicino hanno spiegato quello che facciamo adesso ti ricordi tutto lascia lascia che fa tutto lui vabbè se non ti ricordi non fa niente perché lui difficilmente si ricorda quindi vedete poi mettete d'accordo a chi si ricorda meglio ok lui dici senti moggi fa il tandem perché hai deciso 2 o un regalo brava questo è il miglior regalo che ti puoi fare bravissima hai scelto una cosa fantastica dai alfonsina ci vediamo tra poco in aereo ci divertiamo e benvenuto al campo volo di reggio emilia ci vediamo dopo ciao dai che andiamo dai che andiamo forza forza siamo quasi pronti a salire vai alfonsina vai attenzione sua la testa quando sali vai vai davanti a lui ok siamo a bordo via ma via ma via ma via ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.